E' un modo freddo quello di essere con voi, preferirei esserci, ma almeno in questo modo riesco a parlarvi. Io sono, nella mia esperienza, uno di quelli che ha visto come ormai larga parte della conoscenza che è necessaria per fare le cose, per capire come disegnare l'organizzazione della nostra vita quotidiana, per migliorare i servizi, anche solo per trattenere le popolazioni nelle aree interne del Paese, per far sì che le periferie migliorino, passa per l'intelligenza diffusa. Voi siete una delle grandi organizzazioni di cittadinanza attiva di questo Paese, come si dice adesso. Avete dentro, assieme ai vostri iscritti, i loro bisogni, le loro idee, ma spesso anche le soluzioni. Avete, avete affrontato e vi ho visto affrontare con in modo diretto il tema delicatissimo del rapporto fra promozione sportiva, cioè, come dire, fare lo sport per arrivare primi, per fare bene, per eccellere individualmente, ma anche lo sport come promozione sociale, come momento di comunità, per stare insieme ad altri, per dare una chance coerente con l'articolo 3 della Costituzione, quando dice che bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona di vivere la vita che desidera vivere. Non è solo lo Stato a farlo, ma anche voi. Per farlo oggi vi ho visto interagendo con voi, con le vostre strutture, forse domani anche con l'intelligenza di alcune idee nostre, con l'esperienza di alcune persone che hanno lavorato con me, di provare con voi a lavorare concretamente in alcune organizzazioni territoriali, di provare a investigare terreni nuovi, terreni nuovi in cui non soltanto facciamo le cose, ma proviamo anche a capire i risultati che otteniamo facendo le cose, a misurarli. Alla fine della storia, l'attività dell'UISP in questo territorio piuttosto che in quell'altro, cosa ha prodotto in termini di miglioramento della qualità della vita? E possiamo documentarlo, possiamo addirittura misurarlo, questo modo nuovo di orientamento al risultato, che poi può anche diventare un'occasione di finanziamento, perché il mondo di domani, anzi lo so che voi vi augurate anche di oggi, che i finanziamenti pubblici arrivino alle organizzazioni non soltanto che hanno più iscritti, ma che riescono a cambiare la vita, a migliorare la vita delle persone. Ecco, il vostro impegno su questo terreno nuovo, che è il nuovo terreno della cittadinanza, mi ha colpito, mi ha avvicinato a voi e mi fa essere dispiaciuto di non essere con voi. Il mio augurio è che possiate produrre dal lavoro che farete in queste giornate idee e spunti e segnali di disponibilità su questo nuovo terreno e avremo certamente modo di ritrovarci.